sembra ormai certa ragazzi la partenza di questo giocatore se ne parla da tantissimi mesi nello specifico da gennaio quando lui dichiara così apertamente non voglio rimanere all'inter mi piacerebbe andare in premier league proprio con una sfacciatezza si dice così non lo so ma è pazzesca ma come si fa con quale coraggio tu in conferenza stampa dichiari una roba del genere e già su questa cosa qua mi è crollato clamorosamente questo giocatore che tutto sommato mi ha sempre piaciuto e indicativamente stava anche tra virgolette facendo il suo però lo conosciamo un giocatore molto discontinuo queste dichiarazioni non sono andate molto giù non solo a me ma soprattutto ai tifosi e a parte della dirigenza ed è interessata una società al quale noi possiamo andare a prendere un altro giocatore stiamo parlando di Ivan Perisic ed è proprio su di lui che voglio farvi questa domanda secondo voi ha senso tenerlo oppure no fatemi sapere commentando qua sotto poi lasciate un bel mi piace visto che ci siete e soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti che dire allora tema di oggi è Ivan Perisic è uscito da qualche ora la notizia relativa al suo ipotetico scambio che si potrebbe intavolare con il Manchester United società che è interessata a prenderlo per la prossima stagione e proprio in questa società gioca uno degli attaccanti che Antonio Conte sempre se dovesse arrivare vorrebbe portarci a Milano e cioè Romero Lukaku se ne è parlata nei giorni successivi se che sto a dire nei giorni precedenti se ne parlerà anche nei giorni successivi perché è una trattativa che potrebbe prendere veramente piede la valutazione di Perisic siamo sui 30 35 forse 40 milioni di euro io penso che sopra queste assolutamente no proprio per i motivi che ho detto prima e invece Romero Lukaku siamo probabilmente su una settantina un'ottantina e di conseguenza potremmo appunto dando dentro Perisic pagarlo la metà secondo voi potrebbe essere un affare e soprattutto Perisic ragazzi sarebbe una perdita devo essere sincero nell'ultimo periodo è uno dei migliori sta tra virgolette tenendo un po' botta più di tutti gli altri e non soltanto segnando però comunque ci sta mettendo parecchia grinta è un giocatore molto difensivo non soltanto offensivo e forse è questo che un po' lo ha caratterizzato in positivo per la nostra formazione ed è forse anche questo il motivo per il quale Spalletti non lo toglie mai ragazzi non soltanto perché è il suo pupillo ma forse perché è comunque un giocatore concreto e soprattutto completo perché è molto bravo in tutte e due le fasi corre tutta la partita è un atleta ragazzi non c'è niente a dire Perisic fisicamente e in termini di prestazioni è veramente un atleta però ha dalla sua questa discontinuità che quando gli parte l'embolo non ha zecco un cross non ha zecco un passaggio prova a saltare l'uomo e non lo salti mai cioè veramente da questo punto di vista qui non mi piace però c'è questa ipotetica situazione in cui potrebbe svilupparsi uno scambio di giocatori più naturalmente il conguaglio con il Manchester United che vi dicevo prima fatemi sapere che cosa ne pensate se vedreste bene Perisic allo United e Lukaku soprattutto all'Inter ma se la domanda di oggi che è questa fatemi sapere se secondo voi sarà una perdita importante oppure no anche perché poi bisognerebbe andare a prendere qualcun altro nel suo ruolo per quanto riguarda il calcio mercato fatemi sapere cosa ne pensate seguitemi sul mio profilo Instagram da Pro93 che trovate in descrizione ma soprattutto sempre in descrizione il link dedicato alle maglie da calcio quindi passate se vi va e se siete interessati mi raccomando carichi ragazzi per domenica tutto pronto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale attivando anche la campanella così sapete quando uscirà la live reaction mi raccomando da San Siro sarà un degenero vi aspetto bella ragazzi